Questo non è facile senza indagazione, tutto da un autodidato, senza un cazzo niente. Chiaramente. Prova, sì, sì, prova. È il risultato sentirti obbiato nel passato, nell'immediato, in ogni aggiunta a vento, nell'infinito e indefinito. Potresti essere ed essere stato spacciato e morto ad ogni lotto, dalle otto alle otto, con assento ogni convenuto propriamente addetto. D'altro canto, dal tuo canto, ogni contatto realmente ricercato con l'altro avrebbe atto solamente dopo l'attesa di una presa dopo nelle prese tese. Preparati ed allenati, rinforzati e tese a rinforzare nella vision di risposta appropriata da chi ti spetta. Che non sarebbe corretto indurre nell'ignoto inaspettato ogni novizio indetto zio. Che sia ad arrivare passato all'infinità per le priorità della vita primaria, essa stessa detta primi frammenti di risposte. Che sia ad arrivare passato all'infinito. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.